In piazza dei Patrioti la paura è di passare il Natale al freddo, dato che la riparazione della rete del tereriscaldamento sembra solo parziale e il cantiere non è stato chiuso dopo il guasto all'impianto che ha lasciato al freddo 5 condomini per più di un giorno. I caloriferi sono tornati a funzionare, ma non però tra le 2 e le 4 del pomeriggio. La temperatura all'interno degli alloggi scende a 10 gradi. Per chi abita qui non resta che comprarsi una stufetta, anche con l'aiuto dei parenti, nella speranza che il costo non sia eccessivo, dato che bisogna tirare avanti con i 600 euro della pensione minima. Quanto alle bollette del tereriscaldamento che riceve l'acqua calda dall'inceneritore, le paga direttamente il comune e l'azienda dello stesso gruppo che ha la proprietà dell'inceneritore. L'Aler dà la colpa alla M, la M dà la colpa all'Aler, in modo tale che siamo in quelle condizioni qui. Si può rompere da un momento all'altro? Sì, ma l'ha già detto. Può darsi che vada avanti un mese, può darsi anche due giorni, può darsi anche un mese e mezzo. Però abbiamo 15 metri che loro hanno visto che non tiene marcio. Negli ultimi anni il freddo e i distacchi delle utenze hanno caratterizzato vicende drammatiche per chi non ha di che vivere senza i servizi sociali. Resta difficile la vita nel quartiere Borgoloreto. I controlli della polizia e dei carabinieri sono frequenti, tra tentativi di furto e comportamenti illimiti. Le porte rimangono chiuse, non ci si fida a volte neanche tra vicini di casa. Tra i residenti l'età media è elevata, diversi gli anziani single che hanno superato gli 80 anni. Tra le contraddizioni ci sono poi tre appartamenti vuoti in una sola palazzina al numero civico 8, quando le domande di case popolari sono centinaia. Si complica anche la raccolta dei rifiuti. Sono stati visti alcuni passanti depositare sacchi di immondizia, non differenziata nei bidoni dei condomini, segnalati al comune. Il rischio è di subire bollini gialli, poi rossi e infine multe a tutto il condominio, se non sarà applicata per tempo la tarifa puntuale.